Oggi scendiamo in escursione a Marsiglia. Bentornati su Crociere Fai da Te, se volete viaggiare in crociere risparmiando siete sul canale giusto. Vi consiglio di iscrivervi al canale cliccando qua sotto sulla campanella per non perdere tutti i video che pubblichiamo ogni settimana dal mondo delle crociere. Qua sotto in descrizione trovate il link al sito web crocierefaidate.it e al nostro profilo Instagram e gruppo Telegram dove pubblichiamo offerte e novità dal mondo delle crociere. In questo video vi portiamo in escursione a Marsiglia. Il porto dista circa 6 km dal centro della città ed è possibile raggiungerlo con la navetta gratuita seguendo la linea verde quando scendete sul molo dalla nave che è disponibile solo dal venerdì a lunedì. Noi invece abbiamo utilizzato la navetta messa a disposizione dalla compagnia a pagamento che potete prendere direttamente sotto la nave e in 20 minuti vi porta nella zona centrale del porto vecchio. In questa zona sono presenti diversi caffè e ristoranti di pesce con vista sul porto a cui si alternano negozi di prodotti tipici come il sapone e altri souvenir che potrete portare a casa come ricordo di questo scalo. Da qua è possibile visitare anche il forte di Saint-Jean che domina la zona. Dal porto turistico inoltre parte un trenino che compie due itinerari. Uno vi permette di raggiungere la chiesa di Notre-Dame de la Garde che domina il porto dall'alto. Il secondo trenino invece vi porterà a visitare la zona di Marsiglia Vecchia. Se non volete fare un'escursione con la compagnia per visitare altre cose vicino a Marsiglia, un giro in città merita soprattutto se non l'avete mai vista. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa avete fatto voi quando siete scesi a Marsiglia con la vostra crociera. Se avete delle domande lasciate pure un commento qua sotto rispondiamo sempre a tutti. Se non siete ancora iscritti al canale fatelo adesso per non perdere tutti i video che pubblichiamo ogni settimana dal mondo delle crociere. Per questo video dedicato alla visita di Marsiglia in crociera è tutto. Noi ci vediamo alla prossima navigazione. Ciao da Enrico. Grazie a tutti.